Fotografia e video con teleobiettivi in ambito APS-C. Qual è la migliore combinazione che vi permette di fare da un lato paesaggio e dall'altro fotografia naturalistica? Chiaramente parliamo di un inizio di fotografia naturalistica, ci sono obiettivi poi più specifici, però se parliamo del normale 70-300 che su APS-C diventa un 105-450, ci si può anche avvicinare a un po' di naturalistica. E quindi cominciare ad avere un'idea se quel genere ci possa piacere oppure no. E quindi in quell'ambito, quali sono le migliori combinazioni che si possono ad oggi, febbraio 2024, comprare sul mercato? Vi prometto che ho scartato Nikon e Canon per due motivi. Parliamo sempre di APS-C. Nikon perché non ha tirato fuori nulla di APS-C particolarmente interessante, né come obiettivi né come fotocamere. Quelle che ci sono sono, tra virgolette, vecchie, nel senso come tecnologie vecchie. Sicuramente faranno qualcosa a breve, poi ne riparleremo, ma ad oggi non ha nulla di interessante. Dall'altro lato Canon ha la R7 che è una gran macchina e ha anche macchine un pochino più compatte, più basilare. Però gli obiettivi in ambito APS-C ancora sono un po' pochini e un po' limitanti. Per cui se comprate APS-C, non credo che comprate un APS-C con 7300 e basta. Ci comprate comunque un corredo di obiettivi attorno. Ecco, ho scattato l'R7 più che altro per quel motivo lì, per una mancanza di un corredo completo dedicato al sistema APS-C. Per cui, detto questo, la nostra sfida sarà fra la Sony A6700 con il 70-350, che vedete qui, e la Fuji X-H2S con il 70-300, che vedete qui. Ora, in questo momento in realtà io ho la X-H2, perché la X-H2S mi sta registrando, ma l'eleo di corpo è la stessa cosa. Perché questa scelta di questa accoppiata fotocamera obiettivo? Beh, il 70-300 in ambito APS-C, come vi dicevo, è una focale molto lunga, è il vostro 100-400. Anzi, 104-150, 105-450 per quanto riguarda il Fuji, 105-525 per quanto riguarda il Sony, perché è un 70-350. Quindi, obiettivi con un range di focale molto largo, che permette di fare molte cose. E quindi, questa è la scelta degli obiettivi. Sulle fotocamere sono andato verso il top che quelle due case possono proporre in questo momento in ambito APS-C. Ed è chiaro che l'X-H2S è una fotocamera che costa quasi 1000€ in più della Sony, per cui non è un confronto proprio a pari merito. Ma, d'altro canto, se bene avrei potuto pure compararla con l'X-S20, con Fuji posso comprare l'X-H2S, con Sony non posso andare oltre l'A6700. E se io scelgo APS-C perché è una scelta, non una condizione dal punto di vista economico o di altro, sapere che possa avere una fotocamera, diciamo, top di gamma, può essere una differenza tale da convincermi ad andare verso un sistema piuttosto che un altro. Quindi, impostato, diciamo, questo discorso generale all'inizio, questo mio video, io ho già recensito gli obiettivi e l'AX-H2S, i link saranno tutti in descrizione, non ho ancora recensito l'A6700, aggiungerò il link in descrizione quando la recensione verrà fuori. Quindi non sarà questo video una recensione, sarà la mia esperienza d'uso in questi due ambiti, paesaggio e fotografia di foto naturalistica. Ecco, perché, diciamo, questi sono i due generi che viene più facile fare con obiettivi di questo genere. Partiamo dalle differenze sugli obiettivi. Ora, dovete sulle fotocamere, le fotocamere sono chiaramente, vediamo di inquadrarvele così, chiaramente la Fuji è più grossa e anche un po' più pesante della Sony, ci sono circa 150 grammi, differenza 150 grammi, una roba del genere. E questi più o meno si sentono in mano, anche se non troppo. Entrambe però si impugnano molto bene, hanno un'impugnatura molto ben fatta. Chiaramente la Fuji, essendo più grande, ha un minimo più grande, dei tassi più personalizzabili, in generale è una macchina più maneggevole, più comoda da usare per lunghe giornate. D'altro canto, la Sony invece è una macchina più piccolina, più facile da portarsi dietro, più facile da averne due e ingombrare veramente poco. Mentre, da potenza degli obiettivi, con le dimensioni sono sostanzialmente equivalenti. Anzi, vi tolgo i paraluce, poi parliamo di paraluce separatamente perché c'è una cosa che vi devo dire, e vi faccio vedere che davvero stiamo parlando di dimensioni sostanzialmente comparabili. Cercando di mettere la stessa altezza, vedete che davvero parliamo di dimensioni praticamente uguali. Entrambi gli obiettivi si allungano e hanno un blocco per la zoomata. Questo è il Sony 70-350, questo è il Fuji 70-300. Come vedete, il Fuji a 300 si allunga più di quanto non sia il Sony a 350. Quindi, diciamo, se nella loro versione da trasporto, quindi a 70 mm, sono più o meno della stessa dimensione e del stesso peso, alla loro estensione massima, il Fuji si estende un pochino di più. Non è un gran problema oggettivamente, non è che stiamo parlando di chissà cosa. Però è importante dirlo anche perché il Sony ha quei 50 mm in più. Parliamo infatti di 70-300 su Fuji che sono equivalenti a 105 fino a 450. Su Sony invece siamo equivalenti, da 70 a 350, siamo equivalenti a 105, 525. La differenza, lato lungo, quei 50 mm che poi diventano 75 mm equivalenti c'è, ma non è drammatica, nel senso che con un piccolissimo crop sul Fuji si ottene la stessa inquadratura che sia su Sony. E il Fuji, di accanto suo, ha un'apertura che su tutto il range di focali è un terzo di stop più veloce. Anche lì differenza minima, non si nota all'atto pratico né dal punto di vista dello sfogato né dal punto di vista della fotografia in scarsa luce perché un terzo di stop si compensa facilissimamente o con l'otturatore o con gli ISO senza incorrere in nessuna particolare differenza. Quindi dal punto di vista fisico parliamo di due soluzioni molto simili. Quindi, i due obiettivi hanno il blocco, vedete che qua c'è un blocco qui, mentre il Sony, quando è bloccato, è bloccato, non va da nessuna parte. Il Fuji, dalla sua, ha il blocco qui, però è impostato in maniera tale che se voi forzate l'obiettivo si sblocca, avete sentito il clac, e si allunga uguale. Quindi nel momento in cui lo pigliate e ce l'avete bloccato, perché di solito lo bloccate per evitare che quando cambiate con l'obiettivo così l'obiettivo poi si allunghi, nel momento in cui vi serve, sbloccate ed è già utilizzabile. Con il Sony dovete tirare il lock. Chi se ne frega, diciamo, differenze ma minime. La ghiera della zoomata sul Fuji è più vicina alla fotocamera, mentre sul Sony è più vicina alla frontale della lente. Vedete qua, questa è la zoomata, mentre questa è la messa a fuoco. Questo cosa comporta? Comporta che se io metto il paraluce al contrario sul Fuji, la ghiera della zoomata mi resta utilizzabile. Se io faccio la stessa cosa sul Sony, vedete che la ghiera della zoomata è praticamente del tutto coperta. Si riesce comunque a zoomare perché si può prendere la parte più liscia, ma bisogna fare più forza e non è, diciamo, il massimo della comodità. Però questo dal punto di vista dell'utilizzo pratico può essere una differenza che vale la pena considerare. Per tutto il resto, diciamo, le differenze sono più sul corpo macchina. Il corpo macchina, come vi dicevo prima, il Fuji è molto più completo e più avanzato da tanti punti di vista. Il Sony punta su compattezza e forma, diciamo, squadrata che ha i suoi vantaggi. In ambito paesaggistico, le differenze della fotocamera contano relativamente. Parliamo di due sensori da 26 megapixel con risoluzione praticamente uguale, gamma dinamica molto simile e, in generale, capacità piuttosto simile, soprattutto per quanto riguarda il paesaggio. E quindi non c'è il fattore fotocamera gioca un ruolo, ma lo gioca solo fino a un certo punto. E il fattore lente è quello principale. Ma c'è un ma che affronteremo in un secondo. Allora, obiettivo. Gli obiettivi sono entrambi molto nitidi. Fuji ha il vantaggio di un terzo di stop di luminosità. Però un terzo di stop di luminosità, oggettivamente, non cambia niente. Né per la naturalistica, né per il paesaggio. A parità di focale, diciamo, il Sony è sempre un terzo di stop più buio. Non ce ne frega. Non cambia. Davvero, oggettivamente, non è un motivo per cui scegliere uno piuttosto che un altro. Non c'è alcun motivo per considerare questa come una cosa importante. C'è, ve la dico, ma non conta realmente molto. I due obiettivi sono nitidi. Nitidi a tutta apertura, su tutte le regi di focale. E sono due obiettivi ottimi. Quindi, dal punto di vista paesaggistico, potete ottenere degli ottimi risultati con entrambe le combinazioni. 26 megapixel non sono una quantità di megapixel eccessiva. Chiaramente con Fuji potete andare sulla XH2, ma oggi parliamo di altro. E quindi, da questo punto di vista, avrete risultati molto molto simili. I 50 mm in più sul lato lungo del Sony fanno differenza, ma non esageratamente. Nel senso, un minimo crop e via. Non noterete manco la perdita di pixel. E quindi il tutto, alla fine, si giocherà... Vi ho detto prima che la macchina non conta, ma in realtà conta dal punto di vista della scienza colore. Io, come sapete, scatto Fuji da una vita e ho preso Sony da poco. E sebbene abbia provato a lavorare sulle impostazioni della fotocamera Sony per ottenere dei risultati che mi piacessero e che fossero comparabili alla piacevolezza dei file che ottengo da Fuji, non ci sono riuscito. E ho ottenuto aiuto da tanti. Simone Albini, per esempio, mi ha dato delle ricette che lui usa e devo dire che ha migliorato il tutto, ma comunque non ottengo la piacevolezza dei risultati che ottengo con la Fuji. È una questione di colori, nitidezza, non nitidezza, brillantezza dell'immagine. Non ve lo so dire. Scattare con Fuji, con pellicola velvia, e sistemando per bene le curve delle alte luci e delle ombre vi dà dei risultati che sono oggettivamente eccezionali. E il fatto che partano già eccezionali vi significa che poi in post-produzione dovete fare veramente quattro modifiche precise, se volete, per ottenere il file come vi serve. Con Sony, purtroppo, devo lavorarci di più. E non ottengo comunque lo stesso risultato che ottengo con Fuji. Per cui, lato paesaggi, non ci sono enormi differenze dal punto di vista di fotocamera obiettivo, quello che cambia è la scienza colore. E per me Fuji ha un vantaggio abbastanza evidente, nonostante Sony sia andata a migliorare negli ultimi anni e abbia fatto tanto lavoro sulla scienza colore, ma non ci siamo ancora, perlomeno non siamo ancora a livello di Fuji. Ripeto, posso essere io che ho l'occhio fujicentrico perché lo uso da dieci anni, però è la mia esperienza, quindi vi racconto la mia esperienza. Dove invece le differenze sono sostanziali e possono fare la differenza nella decisione dell'acquisto è nella fotografia naturalistica. Perché mentre l'autofocus conta e non conta nel paesaggio, perché alla fine è difficile che una fotocamera moderna possa sbagliare il fuoco di un paesaggio, nella fotografia naturalistica l'importanza dell'autofocus è decisamente diversa. Così come è decisamente diversa l'importanza del corpo macchina anche da altri punti di vista. Però partiamo dall'autofocus. Vi mentirei se non vi dicessi che l'autofocus della Sony, soprattutto l'autofocus continuo con tracciamento del soggetto, è migliore di quello della Fuji. Ha una quantità di scatti in perfetto fuoco che è più alto rispetto a quello che vi dà la Fuji. Non che la Fuji sia scarsa, capiamoci. Sull'autofocus singolo, anche con il riconoscimento del soggetto, va benissimo, sembra a fuoco, va perfettamente. Sull'autofocus continuo con soggetti in movimento, però, la differenza di quante foto porti a casa perfettamente nitide fra Fuji e Sony c'è. Non parliamo di percentuali drammatiche, ma c'è. Vi mentirei se non vi dicessi che l'autofocus funziona meglio sulla Sony. E lo sapevamo, nel senso sappiamo già che Sony è il leader di mercato per l'autofocus. Non ha manco senso stupirsi di questa cosa. Io speravo che Fuji avesse fatto dei miglioramenti e li ha fatti, ma non siamo ancora al punto in cui si può dire che è alla pari con Sony. Per cui, Sony, dal suo punto di vista, ha un vantaggio non indifferente. L'autofocus continuo sul tracciamento dei soggetti in movimento è decisamente migliore. Ripeto, Fuji va bene, ma non siamo a quel livello lì. D'altro canto, però, se parliamo di fotografia naturalistica, c'è un paio di cose nell'impostazione della fotocamera che possono fare una differenza altrettanto importante. Partiamo dalle funzioni fisiche. Allora, la fotocamera, la XH2S, è più grande, chiaramente più grande, ma questa cosa comporta più tasti rapidi, personalizzabili, che permette di avere funzioni a portata di dito e quindi attivare e disattivare funzioni che per voi sono importanti con molta più velocità rispetto a quanto possiate fare con Sony, cosa da non sottovalutare, ma la cosa ancora più importante è il mirino. Il mirino con la Fuji è anni luce migliore di quello che ha la Sony. E mi potreste dire, vabbè, c'è lo schermo dietro, chi se ne frega. Anche lo schermo è migliore nella Fuji, ma secondo me quando si parla di naturalistica si sta con l'occhio nel mirino perché aiuta a stabilizzare se si è a mano libera, aiuta a essere concentrati, aiuta in tanti fattori. E guardare attraverso, dico un buco della serratura, qualcuno si incazzerà, però la Sony rispetto alla Fuji da questo punto di vista, la 6.7 rispetto all'AX H2S, parliamo di differenza fra buco della serratura e televisione super wide. La differenza è veramente, veramente tanta. E quando scattiamo in fotografia naturalistica stiamo per lunghi pezzi della nostra giornata con l'occhio dentro al mirino aspettando che succeda quello che davanti a noi potrebbe succedere. Si muove il soggetto, c'è un'interazione, eccetera, siamo con l'occhio lì dentro. Ecco, con la Sony io personalmente mi stanco quasi immediatamente, ma veramente subito, perché il mirino è piccolo e non è nemmeno comodo da utilizzare. D'altro canto con la Fuji prima o poi la fatica nell'occhio arriverà lo stesso anche con l'AX H2S, ma arriva molto dopo, riesco a stare concentrato per molto più a lungo. Chiaramente a fine giornata vi sentirete presi a schiaffi comunque, perché una giornata con l'occhio dentro il mirino si fa sentire. Ma se con la Fuji lo posso fare, con la Sony assolutamente no, con la Sony ho perso degli scatti semplicemente perché avevo l'occhio stanco, ho dovuto un attimino allontanare e strizzare l'occhio e nel frattempo quello che stavo inquadrando è andato perso. Che equivale un pochino a perdere qualche scatto con l'autofocus. E altra cosa fondamentale con l'XH2S sia parlando del mirino siccome il sensore è stagged si riesce a fare a scattare in raffica senza perdere il contatto perché è blackout free e questa cosa quando si segue un soggetto in movimento è fondamentale perché si rischia di perderselo semplicemente a causa del blackout del mirino ma ancora più importante se si scatta con l'otturatore elettronico il sensore stagged permette di avere una una lettura del sensore molto più rapida e quindi di abbattere l'effetto rolling shutter che con l'ASI 1007 col mirino con l'otturatore elettronico è molto visibile chiaro se scattate un fenicottero contro il cielo blu non si nota però se avete qualcosa sullo sfondo che dovrebbe essere dritto lo vedrete tutto storto e questo vi rovina la foto e non è più usabile perché raddrizzare il tutto diventa una follia quindi questa cosa è di un'importanza fondamentale perché permette appunto di usare con molta più tranquillità l'otturatore elettronico sulla Fuji che non sulla Sony altra funzione importantissima è la possibilità di conservare gli scatti prima di aver premuto il tasto di scatto la funzione pre pre shutter che c'è sulla Fuji con l'otturatore elettronico permette di fare qualcosa che sostanzialmente vi salva la vita perché quante volte capita che stai inquadrando si muove il soggetto ma il tuo tempo di reazione è più lento quindi hai perso la parte iniziale del movimento bene nel momento in cui tu tieni premuto il tasto di messa a fuoco e anche se non scatti la macchina continua a registrare nel momento in cui tu premi la macchina registra gli scatti dopo che premi ma anche un tot di scatti prima il che vi permette di non perdervi la parte iniziale dell'azione questa cosa è possibile con la Fuji non è possibile con la Sony in nessun modo con la Fuji è possibile ovviamente soltanto con l'otturatore elettronico ma siccome l'otturatore elettronico è usabile proprio perché è stacked è un vantaggio ancora importantissimo da non sottovalutare altra cosa relativa all'otturatore voi potete dire vabbè chi se ne frega dell'otturatore elettronico uso l'otturatore meccanico uso quello e quindi panculo i vantaggi della Fuji me li perdo non mi servono vero potete fare quella scelta però vi faccio sentire una cosa questo è l'otturatore della Fuji meccanico questo è quello della Sony non ho amplificato o abbassato nulla potete capire che l'otturatore della Sony è molto più rumoroso di quello della Fuji bene quello che succede è che in certi casi la fauna che state fotografando può sentirvi a me è successo per esempio fotografavo una poiana a distanza non immaginavo che potesse sentire l'otturatore meccanico della Sony dalla distanza a cui ero mentre invece quello che è successo è che metto a fuoco la poiana guardava tutta l'altra parte appena scatto la poiana guarda dritta verso di me e ho capito che ha sentito il rumore questa cosa può spaventare la vostra preda tra virgolette e farla scappare per cui l'importanza dell'otturatore elettronico o di un atturatore meccanico silenzioso come quello della Fuji non è da sottovalutare quindi in generale quando si tratta di fotografia naturalistica gli aspetti da considerare sono veramente tanti e sta a voi decidere cos'è che è più importante una cosa che dimenticavo col Fuji potete anche mettere a fuoco molto più da vicino che vi dà una maggiore flessibilità sia in ambito naturalistico che in ambito di paesaggio perché vi permette mettere a fuoco più da vicino una pianta oppure una libellula un insetto qualcosa che mentre siete lì a fare altro ma vi capita davanti riuscite a farlo col Sony no questa differenza potrebbe essere una differenza sostanziale da non sottovalutare quindi in conclusione non c'è giusto o sbagliato con entrambi i sistemi troverete ottimi risultati in qualsiasi condizione d'uso sta a voi decidere sulla base di quello che vi serve cos'è che è più importante per voi l'autofocus soprattutto Sony l'esperienza d'uso e la possibilità di usare la fotocamera per lunghi periodi senza stancarsi avendo delle funzioni avanzate potendo usare l'otturatore elettronico andate su Fuji perché Fuji è un sistema più avanzato da questo punto di vista obiettivi espandibilità del corretto di obiettivi beh Sony da questo punto di vista soprattutto si parla di naturalistica ha un vantaggio perché è vero che voi avete scelto di usare PSC ma se volete prendere 600 f4 per full frame su Sony esiste su Fuji no e questa cosa può nell'ambito della crescita nostra professionale può fare una differenza può indicarci una strada d'altro canto se a voi non ve ne frega niente di prendere il full frame e vi sta bene questa tipologia di obiettivi qui oppure andrebbe bene il 150-600 che c'è alle mie spalle non ve ne frega niente di guardare altri obiettivi avete già quello che vi serve ah ma non restate su Fuji chi si è visto come dicevo non c'è una scelta giusta o sbagliata c'è quella più giusta per noi per le nostre esigenze per quello che facciamo in ogni caso con entrambi i sistemi cascate in piedi le differenze sono differenze di uso che possono essere importanti ma non c'è un sistema merda e un sistema oro sono due sistemi ottimi che hanno delle differenze ma dalle quali ognuno di noi darà un peso diverso direi che sono andato più che lungo vi ho detto già tutto lasciatemi nei commenti fatemi sapere se c'è qualcosa che non ho detto se c'è qualche domanda alla quale non ho risposto vi risponderò lì lasciatemi un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale c'è tanta roba tanta carne al fuoco una di quelle appunto è là dietro ci sto lavorando e quindi tanti video che arriveranno nel futuro direi che per oggi è tutto ciao ci vediamo alla prossima ciao ciao